Ciao ragazzi, bentornati sul canale del coach. Avrei bisogno più o meno di una diecina di minuti, quindici, per andarti a spiegare bene come ho strutturato questi cinque esercizi per andare a tonificare e a migliorare il lifting delle gambe, ma siccome tutto questo tempo non ce l'abbiamo, senza perdere troppo tempo, un pochettino più avanti, più avanti, ciao! Quindi ragazzi, come ho detto, ho messo insieme, ho strutturato, ho programmato questi cinque esercizi con il metodo Tabata Training. 20 secondi di esercizi, in questo caso 5 secondi di recupero. Ho fatto una piccola modifica sul recupero, ma fidati, è pesantissimo, nel senso che le gambe si andanno proprio a bruciare, quindi sentirai proprio questo modellamento nel corso dell'allenamento, non mi credi? Prova ad eseguirlo, occhi agli esercizi, se hai bisogno di tutorial, di assistenza e di qualche preparazione per riscaldarti bene, troppo giù nella descrizione trovi tutti i link. Se questo video pensi di allenarti insieme al coach, mi raccomando, lascia un bel mi piace, se non vuoi perdere tutti gli altri, ti iscrivi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, allenati bene, ciao! Noi ci vediamo alla prossima! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti